Che bel posticino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Già, dov'è tutto il maledetto oro? Eh, questo posto è stato ripulito qualche secolo fa. E non sono stati i pirati inglesi. Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Ci contavo su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare è dato storto. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzone. Ah sì? Senti chi parla. Che vorresti dire? Quella reporter. Ho visto come la guardavi. Elena. Per favore. Ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile. Tutto è recito in amore e in guerra. E che succede se non distingui l'uno dall'altra? Allora, mio caro, sei proprio nei guai. Certo che quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia. Non stai scherzando? Dovrebbe funzionare. Dai, lascia fare a me. La terrò aperta. Controlla se la puoi bloccare dall'altra parte. Perfetto, andiamo. Questo dovrebbe reggere. Salli, sbrigati! Per un pelo. Speriamo che questo posto abbia una porta di servizio, eh? Sai, suona familiare. Credo ci sia qualcosa sul diario di Drake a riguardo. Sì, ecco qui. Pare che si tratti di una specie di lampada o bracere. Vedi se riesci ad accenderlo. Hai tanto brontolato per il sigaro, ma ora serve, eh? Ottimo! Splendido! E ora? Oh, Nate. Forse questo lo potevo fare una trentina d'anni fa. Oh, Nate! Oh, no! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, porta da qualche parte Non mi dire che ti ci butti dentro Ho fatto cose peggiori Sono abbastanza fradicio Ce l'ho fatta! Sono dall'altra parte! Riesce ad aprirla? Bello! L'ho preso! Pare un posto sicuro Nate! Esci di lì! Ora! No, 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 no Ce l'ho fatta! Stavo bene! Adesso sì che andiamo da qualche parte Dopo questo lo spero proprio Per la miseria Il tempio è stato costruito attorno a questa Attorno a cosa? Una statua Una statua d'oro Un'enorme statua d'oro E guarda qui Queste persone la stanno proprio adorando Almeno penso che siano persone Ma certo Eldorado L'uomo d'oro Sully non era una città d'oro Ma questo Era un idolo d'oro Ehi Riesci a immaginare quanto varrà adesso? Guarda qui Binari Scommetto che gli spagnoli lo trascinavano fuori su dei ceppi Siamo arrivati in ritardo di 400 anni Quindi la pista è fredda? Già, così sembra Figlia di puttana A meno che A meno che cosa? Seguiamo i binari Si fermano qui? Già, pare che il muro posteriore del tempio sia stato fatto saltare Già Gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro Bene, e ora? Aspetta, Sally, lo senti? Ecco una cosa che non si vede tutti i giorni Cavolo Che mi venga un colpo Avrà risalito il fiume durante la piena e si sarà incagliato Andiamo a controllare? No, aspetta C'è qualcosa che non mi quadra In che senso? Sembra uno che non ha mai visto un sottomarino tedesco nel cuore della giugna No, sul serio, Nate Senti, perché tu non resti qui? Vado io a controllare Ti chiamerò se mi imbatterò nei nazisti, ok? Eh, va bene Vai tu Aspetta, aspetta Puoi tenermi questo? Ok Sembra che dovrò arrangiarmi come posso Ah Grazie a tutti. Grazie a tutti.